Che bello! Wow! Il mio sogno era quello di essere quel rapper italiano che tutti mondialmente conoscevano. Se andiamo ad essere film, scrivo qualcosa di strano. Credo che ci sia dietro una trasformazione, quindi tutti vogliono farne parte. Mi ha colpito da subito. Un giorno andavo all'Italia, per vedere cosa succede, ma dove è la mia musica? I miei fan mi seguono quasi come se mi conoscessero. Siamo lo Yin e lo Yang. La perfetta coesione delle cose. Quando ho visto lui prima, ho capito che sembrava come un superstar. In Italia chi si può permettere di fare un pezzo con Diplo? Nessuno. Qua si sapevano diventare dei colossi. Mi sembra che ancora non sia iniziata la mia esplosione vera. Ma tutto questo vuol dire che non ti puoi dimenticare di sfere basse.